Classica e contemporanea, questa è la linea adottata dallo storico Teatro San Nazaro di Via Chiaia, presentata alla stagione 2014-2015. Otto spettacoli in abbonamento, si parte con Annella di Porta Capuana, diretto dalla Rasanzone con Leopoldo Mastelloni, e si prosegue passando da Scarpetta alla comicità di Schettino, dal pirandello di Luigi De Filippo alla modernità di Michele Caputo e Elenia Lazzarin. In scena anche Edoardo Tartaglia e Veronica Mazza, Gino Rivieccio, Gigi Savoia interpreta Viviani, Francesco Palantoni in Improvvisamente Niente, e i graditi ritorni di Festa di Montevergine e Caffè Chantan, curati sempre dalla padrona di casa, Lara Sansone. Ci possiamo aspettare grandi novità dalla stagione nuova del Teatro San Nazaro, una stagione fedele all'insegna della grande tradizione popolare, napoletana, come ci piace fare. Una stagione divisa idealmente in due, i classici del San Nazaro e i contemporanei. Per i classici inaugura la stagione uno spettacolo cult del nostro teatro, che è Annella di Porta Capuana. Uno spettacolo meraviglioso, storico, moderno, innovativo, racchiude in sé tanti concetti con la partecipazione di Leopoldo Mastelloni. Ed ancora, ancora, miseria e nobiltà, il classico dei classici con Benedetto Casillo. E poi il berretto a sonagli con Luigi De Filippo, che ha scelto di portare in scena questo spettacolo proprio al Teatro San Nazaro, in quanto evento, omaggio, all'amicizia che si è consolidata proprio in questo storico teatro tra Luigi Pirandello ed i fratelli De Filippo. Ed ancora un altro classico, che è io, Raffaele Viviani, che è uno spettacolo magico, anche questo mitico, a modo suo, che sarà portato in scena da Gigi Savoia e Giuseppe Zeno per la regia di Antonio Ferrante. Grazie a tutti.